Musica Ciao a tutti amici di iPhoneItalia.com Oggi andremo a recensire Esercii Lingue Jurist un'applicazione dedicata a tutti coloro che vogliono imparare velocemente una lingua dall'inglese allo spagnolo, al tedesco, al francese e così via l'applicazione è universale quindi va bene sia su iPhone che su iPad ed è disponibile su App Store al prezzo di 7,99€ con questa applicazione appunto come possiamo leggere dalla nota in fondo avremo la possibilità di apprendere una lingua attraverso delle schede che sono compilate all'interno dell'applicazione in modo tale da vedere il nostro stato in questo caso stavo lavorando sull'inglese britannico e qui all'inizio avremo circa 2200 esercizi suddivisi in questi qua sono i temi che noi andremo a visualizzare quindi per esempio fasi di prima necessità avremo la possibilità di ascoltare e poi anche di ripetere per andare ad ottimizzare la pronuncia tutte queste frasi a livello idiomatico sono quelle basi per qualsiasi tipo di evento in questo caso appunto come abbiamo detto sono frasi di prima necessità poi avremo la possibilità di per esempio se siamo in albergo andare nelle prenotazioni oppure quindi come possiamo vedere sono tutte frasi che appartengono ad una certa categoria che a sua volta appunto si sviluppa in una sottocategoria ma quello che interessa di più sono gli esercizi quindi noi avremo un totale di nove esercizi che vanno dalla traduzione della lingua straniera con illustrazione traduzione anche qua dalla lingua straniera senza illustrazione traduzione in lingua straniera quindi dovremo fare a nostra volta la traduzione il training visivo a livello basso e il training visivo a livello medio poi avremo il dettato che è uno comunque delle diciamo degli esercizi abbastanza appunto difficili perché dovremo digitare in modo corretto quindi fino all'80% l'espressione pronunciata infine gli ultimi tre vanno ad essere indovinare le parole il training visivo a livello alto e gli esercizi di pronuncia e noi dovremo andare a premere sul microfonino qua in basso per andare a pronunciare noi avremo la possibilità di ripeterlo 2139 volte fino a quando comunque non ci stanchiamo quindi anche dopo 10 pronunce per esempio basterà premere su termina e qui avremo l'esercizio terminato però le pronunciate correttamente in questo caso ovviamente è 0 che poi andranno ad unirsi a tutte quelle categorie di voti diciamo dove noi abbiamo già completato alcune parti di esami andiamo a vedere la nota dice che il procedimento di apprendimento si basa appunto sul principio delle schede l'obiettivo consiste nel raggiungere il livello più alto corrispondente ad ottimo sarete voi stessi a decidere se nel procedimento di apprendimento dovranno essere inseriti tutti i contenuti o solo alcuni temi o sottotemi cosa vuol dire? che in questo caso avremo la possibilità per esempio se noi andiamo su nullo qui sono gli esercizi per tutti i temi quindi ci potrà capitare qualsiasi tipo di domanda se invece andiamo per esempio su visita turistica avremo la possibilità di effettuare il test per quanto riguarda la visita turistica mentre se siamo al museo avremo la possibilità di eseguire gli esercizi sul sottotema prescelto quindi un'ottima applicazione per tutti coloro che magari non hanno il tempo di prendere delle lezioni private ma possono avere sul proprio iphone o sul proprio ipad un ottimo insegnante di lingue diamo una rapida occhiata a tutte le lingue presenti come potete vedere partiamo dall'arabo, il bulgaro, il ceco, il cinese fino ad arrivare poi al vietnamita, l'ungherese e così via quindi veramente un'applicazione ben fatta ripeto il prezzo è quello di 7,99 euro però appunto vale veramente la pena spendere un saluto, alla prossima, ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti